La sezione criminalità diffusa Falchi della squadra mobile nella zona industriale della città ha tratto in arresto un 38enne pregiudicato saranitano trovato in possesso di 17 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di una somma di denaro ritenuta provento dell'attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire moltissime altre dosi della sostanza stupefacente, materiale per il taglio e il confezionamento della stessa, nonché una pistola modificata per sparare cartucce calibro 9, molte cartucce calibro 38 special ed altro materiale utile alle indagini. L'arrestato è stato condotto presso il carcere di Salerno per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio, detenzione abusiva di arma clandestina, detenzione abusiva di munizionamento per arma comune da sparo e ricettazione.